e adesso l'impennata e adesso Andiamo, andiamo, andiamo! Spegni! Lo fai là, no? No, lo potevo aggiuntarlo. Andiamo! erano i due siete, così, e così se è d'eliminare la scuola, il set pensa ad eliminare la scuolaelle dalle strette dalle stelle. Questo è l'eliminое sicurezza, da Mag__olescenti, un secondo devo fare anche delle foto guarda me